Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. È notizia dell'ultima ora la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo 25 aprile a Civitella in Val di Chiana. L'amministrazione comunale lo aveva invitato per gli 80 anni dalle stragi di Civitella, Bucine e Cornia. Adesso è arrivata la risposta dalla Quirinale. Il Presidente Mattarella presenzerà dunque alle iniziative del 25 aprile nel comune della Val di Chiana. E adesso la cronaca, una vasta operazione della Guardia di Finanza di Arezzo per il contrasto dell'evasione fiscale e del lavoro nero. Vediamo il servizio. Decine di dipendenti in nero, ben 139 imposte e vase per oltre 3 milioni di euro. Questa secondo le indagini della Guardia di Finanza di Arezzo. La situazione all'interno di aziende del settore orafo e edile ad Arezzo nel Valdarno Aretino. Nella prima azienda gestita da un bengalese e con sede ad Arezzo, i dipendenti di nazionalità bengalese, indiana e pakistana sono stati sorpresi a lavorare nel tardo pomeriggio di una giornata festiva ad insospettire i finanzieri, le numerose biciclette fuori dai capannoni e le luci accese. Dei 39 lavoratori extracomunitari presenti fanno sapere i finanzieri, 24 erano completamente in nero, 15 da considerarsi comunque irregolari perché il titolare non aveva registrato la loro presenza nel libro unico del lavoro, tra questi anche i richiedenti asilo e un minore senza permesso di soggiorno. In un'altra ditta, sempre del settore orafo e gestita da un pakistano, sono stati quattro i connazionali scoperti a lavorare in nero. Infine, verifiche nei confronti di sei imprese edili del Valdarno Aretino. Qui sono stati individuati, secondo i finanzieri, 85 lavoratori in nero e in gran parte italiani, otto dei quali formalmente disoccupati e percettori dell'indennità di disoccupazione. Una delle imprese, spiegano le fiamme gialle Aretine, era stata formalmente localizzata in un paese comunitario con una tassazione inferiore rispetto a quella italiana, nonostante fosse di fatto amministrata nel territorio nazionale. Oltre alle sanzioni amministrative, sono state contestate in poste e vase per circa 3 milioni e 300 mila euro. Prosegue la scia di furti ad Arezzo, gli ultimi colpi sono stati messi a segno tra Pescaiola e la zona Tortaia. Nelle mire dei ladri è finita anche una cooperativa. Dalla zona di Pescaiola, quella di Tortaia, ma non solo, nelle mire dei ladri è anche una cooperativa sociale. È una scia di furti, quella registrata nella città di Arezzo. Dice, scusi ma lei si è accorta di nulla. Dice, guardi che la sua macchina è stata, hanno tentato di aprirla. Una truffa, cosa è successo? Tentativo. Mi hanno telefonato dicendo di essere della Telecom e che mi avrebbero dovuto obbligatoriamente cambiare il numero di telefono. Io ho cominciato a insospettirmi perché dopo un secondo già questa persona era lì. I colpi sono stati messi a segno in pieno giorno. Nella mattinata di lunedì, un furto in un appartamento nella zona di Tortaia. I ladri qui hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa ed hanno colpito. Porta d'ingresso forzata e tutte le stanze messe a soccuadro. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga con preziosi e con tanti. Stesso copione, quello messo in scena anche nella zona di Pescaiola. Ci sono stati un po' dei furti che l'ho sentito nel tardo pomeriggio più o meno. Ci sono stati dentro le case addirittura e anche nei primi piani, nei giardini diciamo. Ora qui in zona Pescaiola, stando lui è il misocero, ci sono stati un po' di avvenimenti l'altra volta che c'è stato di quella donnina. Sì, li hanno portato via l'orologio, ma questo si parla di due mesi fa. Si potrebbe vivere meglio, va bene così, però si va sempre peggiorando le cose, quindi bisogna prendere precauzioni. Ora hanno messo le telecamere, qualcosa hanno fatto, però bisogna fare di più. Ma non solo abitazioni, i ladri hanno colpito anche una cooperativa sociale di Arezzo. Sono entrati nella sede del Cenacolo, lasciandosi alle spalle ingenti danni, ma fuggendo con uno scherzo bottino. Sugli episodi sta indagando la Polizia di Stato. Ancora cronaca, una settantenne è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri all'interno della sua auto lungo la strada regionale 71, in località Marcena. L'auto era adagiata lungo la strada con il conducente al posto di guida. Sul posto, allertati dagli altri automobilisti che transitavano lungo l'arteria molto trafficata, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi della 118. Per l'uomo però all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. Sarebbe un malore la causa del decesso. E adesso torniamo invece a parlare del caso di Martina Rossi. Non ci sarà nessuna nuova perizia per ricostruire la caduta che fu fatale alla giovane studentessa Ligure che morì durante una vacanza a Palma di Mallorca. Una richiesta alla quale si era opposta fermamente anche la famiglia della giovane. Non ci sarà nessuna nuova perizia sulla caduta di Martina Rossi. La studentessa volata giù dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca per sfuggire ad un tentativo di stupro all'alba del 3 agosto 2011. A richiederla, 13 anni dalla morte, erano stati Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, i due trentenni di Castiglion-Fibocchi condannati a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo. La richiesta al giudice civile del Tribunale di Arezzo, davanti al quale si svolge la causa per il risarcimento del danno, era quella di riconoscere un grado di responsabilità della studentessa. In altre parole, fu anche colpa sua, secondo la tesi dei legali, se scavalcò la ringhiera nella fuga e cadde nel vuoto, tesi definita berrante dai familiari di Martina Rossi e che adesso è stata rigettata. Voglio dire, sembrano assurde delle volte queste acrobazie che fanno, diciamo così, per togliersi delle responsabilità che oramai mi sembrano definite, certe e chiare. Ecco, io capisco che magari arrivare alla fine quando si fanno i conti, magari possono diventare amari, no? E la vita delle persone, ecco, ne può rimanere segnata, ecco, ma tanto come noi, ecco, non ne è rimasto sicuramente segnato nessuno. Albertoni e Vanneschi attualmente si trovano in carcere per scontare la pena in regime di semi libertà. La famiglia di Martina Rossi ha chiesto un milione di euro di risarcimento da destinare alla lotta contro la violenza sulle donne. In nome della giovane è nata anche un'associazione lanciata da Bruno Rossi e Franca Murialdo, intitolata alla studentessa anche una borsa di studio. Di stare dalla parte dei più deboli e di quelli che soffrono, che poi sono quelli che soffrono sempre di più. I civili nelle guerre, le donne nei delitti, i bambini nell'amore, ecco, che dovrebbero ricevere per venire grandi. I vecchi, ecco, che muoiono in una maniera senza medicina delle volte, ecco, questo è lo scopo, diciamo così, dell'associazione, della nostra vita. E di come passiamo le giornate, ecco, ricordando Martina, sempre, sempre. Anche l'Udc Aretino e quello cortonese appoggiano Nicola Carini, candidato sindaco di Cortona. Questa mattina la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della candidatura unitaria del vicepresidente della provincia di Arezzo e attuale presidente del consiglio di Cortona. Un'occasione per rimarcare la mossa del centrodestra che si avvicina all'appuntamento elettorale e all'insegna dell'unità. Carini rappresenta il centrodestra unito, ha detto Lero Lorenzoni, commissario provinciale dell'Udc. Il nostro partito lo sosterrà, siamo nella coalizione, il nostro simbolo si potrà affiancare solo a questo candidato. E voltiamo pagina per parlare di rischio idrogeologico, ma restiamo in Valdichiana. Il comune di Castiglion Fiorentino infatti ha dato la via ad un percorso di progettazione che ha visto l'arrivo di un milione e mezzo di euro per cinque interventi da realizzare nel territorio comunale. L'obiettivo è quello di restituire alle aree urbanizzate la capacità di laminare e infiltrare l'acqua piovana, in modo da evitare potenziali situazioni di rischio attraverso anche una serie di interventi diffusi. Le opere sono finanziate con un contributo PNRR e in questi giorni sono stati approvati i primi due progetti esecutivi. E adesso torniamo in città. Patrizio Bertelli, ancora mecenate ad Arezzo, ha destinato infatti una milione di euro al restauro della Pieve di Santa Maria. Un milione di euro per il restauro della Pieve di Santa Maria a tendere la mano alla diocesi per riportare al suo antico splendore una delle chiese più amate della città, Patrizio Bertelli, patron di Prada. Davvero un finanziamento importante che consente di prospettare l'inizio dei lavori nella Pieve, noi speriamo, durante quest'anno. E' l'occasione per esprimere al signor Bertelli il mio personale e della diocesi ringraziamento per questa attenzione che è un segnale di vicinanza, di sensibilità verso il mondo della cultura, anzitutto, dell'arte e poi anche verso la realtà della diocesi e della città. Patrizio Bertelli, che proprio nella sua città Natale aveva già salvato alcuni locali storici, adesso ha deciso di finanziare l'intervento della chiesa dove ha ricevuto il battesimo. La chiesa ha il più ampio patrimonio artistico del nostro territorio e noi abbiamo il dovere di conservarla. La chiesa nel corso degli anni aveva subito danneggiamenti causati dal meteo e dall'usura del tempo. Lo scorso giugno il crollo di una delle colonne della facciata, a seguito del quale il ministero aveva già stanziato 1.100.000 euro. Una colonna, che tra l'altro è una delle insospettate, si è spaccata a metà, metà è rimasta su, grazie a Dio lasciando intatta la struttura e metà, ma sono chili e chili e chili di pietra da quell'altezza che è caduta davanti alla porta d'ingresso, fortemente alle 4 della notte. Avevamo un grosso rischio. Per ora con l'impalcatura siamo sicuri, speriamo presto, senza impalcatura, nella bellezza e nella pienezza della sicurezza. Adesso il budget è quasi raddoppiato, ma serviranno comunque ulteriori fondi per completare l'importante opera di consolidamento e recupero. Per cui è una porta aperta perché chi potrà possa portare anche il proprio contributo. Si è riunito ieri presso la sede di Via Società Operaia il Consiglio della Croce Bianca di Arezzo con i nuovi componenti eletti lo scorso 21 gennaio. Il Consiglio è eletto presidente il dottor Urbano Nini, vicepresidente Ernesto Ferrini, segretario Claudio Rampini e vice segretario Simone Piccirilli, direttore e comandante della compagnia attiva Giacomo Rampini e vice comandante Samantha Pastorelli. Anno ottavi è stata invece eletta responsabile del gruppo femminile dell'associazione, Lucio Biagi confermato responsabile della formazione, Paolo Laurita della comunicazione. Durante la seduta è stata anche formalizzata l'istituzione musicale dell'orchestra Croce Bianca Arezzo. Questa è la nuova squadra che per i prossimi quattro anni dovrà gestire la pubblica assistenza Croce Bianca. CNA Arezzo invece ha deciso di adottare Alice Fantoni, la 22enne casentinese che ha lasciato a Roma l'esperienza di lavoro in Vaticano perché voleva sviluppare la sua attività di artista e artigiana nel Casentino. L'associazione ha infatti deciso di seguirla in tutto l'iter per aprire la sua futura bottega artigiana. Il suo è un messaggio giusto da dare ai nostri giovani sul valore dell'artigianato, spiega la direttrice di CNA Arezzo. In questi anni siamo scesi sotto le mille aziende artigiane in Casentino e nel territorio arettino sono appena 350 quelle dell'artigianato artistico. A queste vogliamo aggiungere anche quella di Alice appena concluso il suo percorso di studi. E ancora a formazione Sintra conferisce due borse di studio per la formazione di professionisti nell'e-commerce per il settore della moda. L'azienda Retina ha confermato il proprio impegno nel sostenere l'inserimento del mondo nel lavoro di giovani e neolaureati attraverso l'attivazione di specifici percorsi finalizzati all'acquisizione di nuove competenze e conoscenze. E cambiamo argomento, domani è il giorno di San Valentino e in provincia di Arezzo c'è un luogo speciale per affesteggiare la festa degli innamorati, il borgo di Lucignano che ospita l'albero dell'amore. Innamorati di tutte le età e da tutto il mondo, pellegrini soprattutto nel giorno di San Valentino a Lucignano dove viene custodita un'opera unica al mondo. Protetto in una tecca di cristallo tra le mura del museo comunale si trova infatti il famoso albero d'oro, portafortuna che suggella le promesse d'amore di tutte le coppie. E proprio per celebrare San Valentino nel borgo della Valdichiana compresarcenti nell'ambito del progetto Vetrina Toscana porterà i visitatori alla scoperta dei segni d'amore. Una visita guidata in uno dei borghi più belli d'Italia tra le luci del tramonto alla scoperta della sua storia e delle sue curiosità accompagnati dalla melodia di un violino ed infine davanti all'albero d'oro tutti i presenti potranno scambiarsi o rinnovarsi una promessa d'amore. L'opera d'arte ha avuto una vita travagliata e forse proprio per questo è diventata simbolo dell'amore duraturo realizzato tra il XIV e il XV secolo alto circa 2 metri e 60 centimetri è uno dei monumenti più straordinari dell'oreficeria italiana realizzato in oro, argento, coralli e pietre preziose. Solo recentemente è potuto tornare alla sua originale interezza grazie al ritrovamento di 18 pezzi mancanti da parte del nucleo Carabinieri per la tutela dei beni culturali di Firenze e il conseguente restauro affidato all'opificio delle pietre dure. Sempre in Valdichiana, a Camucia, è stato inaugurato un nuovo spazio pubblico destinato alla cultura. Con il concerto del maestro Roberto Giordano è stato inaugurato l'auditorium che si trova all'interno degli ambienti della nuova scuola Morra di Camucia pronto ad accogliere iniziative culturali e sociali presentata anche la nuova scuola di musica comunale che ha trovato spazio in alcune aule dello stesso plesso. Sì, l'amministrazione comunale da sempre crede nella musica quindi ringraziamo la scuola di musica comunale ma soprattutto anche il dottor Alfonso Noto che insieme a noi ha condiviso diciamo così di affidare i locali che peraltro rimanevano vuoti alla scuola di musica. È molto importante perché è ricca di iscrizioni di ragazzi, di persone emergenti e di maestri di altro profilo. Oggi stiamo qui a inaugurare appunto i locali e ad ascoltare un ottimo concerto del maestro Giordano. La scuola è aperta a tutti i livelli di età dai bambini agli adulti e abbiamo corsi di strumenti ad arco violino, viola, violoncello e contrabbasso e strumenti a fiato, tromba e flauto e poi c'è tutta la parte moderna di canto moderno chitarra elettrica, jazz, batteria e basso elettrico. Restiamo a Cortona dopo il successo della prima edizione il centro storico sarà nuovamente lo scenario della Young Urban Trail la manifestazione dedicata ai giovanissimi che si abbina alla eco camminata. L'appuntamento è per domenica 18 febbraio con appunto alle 9 la partenza da Piazza della Repubblica della eco camminata dalle 10 poi Piazze Strade della Citrae Etrusca saranno invece dedicate ai più giovani e al loro avvicinamento allo sport. E adesso il calcio questa sera uno stadio da Serie A 10.000 persone sugli spalti oltre a 500 aretini al seguito per una partita difficile e suggestiva in ugual maniera. A Cesena infatti sarà una grande serata il cospetto della capolista che viaggia in sesta marcia sin dall'inizio del campionato 19 vittorie e 5 pareggi adesso a più 12 sulla seconda dunque con un piede già in Serie B. Al seguito degli Amaranto saranno invece 500 e i tifosi un dato impressionante se si considera che la partita viene disputata in un giorno feriale e che per fare punti servirà una super prestazione degli Amaranto. Nel corso delle prossime edizioni ovviamente tutti gli aggiornamenti. E adesso il Taekwondo Sara Micera del centro Taekwondo Arezzo si è laureata vice campionessa italiana. La giovane atleta aretina nata nella 2010 e allenata dal maestro Andrea Rescigno è scesa sul tatami dei campionati nazionali cadetti di Torino nella categoria inferiore ai 47 kg delle cinture rosse e ha vissuto la grande gioia di salire sul secondo gradino del podio arrivando a festeggiare il primo importante successo della propria carriera sportiva. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci.